Ciao a tutti, ecco perché gli uomini di basso valore non si educono. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai farmi delle domande, potrai scegliere degli abbonamenti base per partecipare alle live e l'abbonamento seminari online per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. Ma adesso veniamo al tema, ecco perché gli uomini di bassa qualità non si educono. Allora, quali sono gli uomini di bassa qualità? Beh, intanto sono quelli che si percepiscono di bassa qualità, sono uomini che si percepiscono loro di essere di bassa qualità e in effetti spesso lo sono anche perché utilizzano atteggiamenti zerbinanti e questi sono gravi errori che fanno sì che vengono fatti rimbalzare giustamente dalle donne perché le donne non prendono in considerazione gli uomini di bassa qualità, le donne vanno alla ricerca di uomini di elevata qualità, le donne vanno alla ricerca di uomini che hanno una qualità elevata. Prima però bisogna capire che cosa si intende col termine qualità. E la qualità è quanto un uomo, come un uomo viene percepito, il valore, che valore quest'uomo si attribuisce. Questo è un parametro fondamentale. Bisogna tenere presente che se tu non ti attribuisci un altro valore sicuramente non ce l'avrai. Ma da cosa viene percepito il valore? Dal comportamento che tu hai e quindi è una mandata a doppio legame. Come si comportano gli uomini di scherzo valore con le donne? Beh, ad esempio accettano posizioni di amicizie. Cioè un conto è se sei tu un uomo che la frenzoni cambia tutto allora. Tu le dici, ti vedo come amica, punto, e allora questo va in verde perché vai di fatto a offendere la sua femminità. Se tu dici a una donna ti vedo come amica, di fatto le dici fai schifo come femmina. Ma vai bene come donna, come amica. Questo è il concetto di fondo. Allora se sei tu caro carampano che frenzoni la donna, puoi tenere dei grossi risultati. Ma se vieni frenzonato e accetti che lei ti dica ah, ti vedo come amico e tu accetti di stare nelle situazioni di amico, beh, allora non vali assolutamente niente perché lei tenderà a sfruttarti, tenderà a parlare di te, diciamo, degli uomini che la fanno sognare e tu verrai considerato come una merda praticamente. Quindi questo è uno degli errori più gravi. Un altro grave errore che fanno gli uomini di scarsa qualità è quello di scoprire le carte immediatamente. Essendo anche tra l'altro dimostrandosi subito innamorati, essendo anche subito disponibili a uscire, diciamo, a vederti. Questo è un altro grave errore che fanno molti uomini. È veramente un errore grossolano che fanno tantissimi uomini e veramente ci cascano dentro in tutti i modi. È veramente un grave errore questo, perché tu non puoi accettare, diciamo, di scoprire subito le carte, accettare che lei ti proponga qualunque cosa e tu l'accetti. Questa è la cosa peggiore che puoi fare. Poi un altro grave errore che fanno gli uomini di bassa qualità è cercando di conquistare una donna con oggetti materiali. Questo lo fanno molti uomini, ma sono dei falliti, sono degli sfigati, che cercano di conquistare una donna offrendo cene, comprando regali. Questo è, diciamo, quello che... Intanto, in questo modo, attirerai soltanto donne che ti vogliono sfruttare. Attirerai soltanto le scrocone che ti vogliono sfruttare e che vogliono, diciamo... e che vogliono, come dire, trovare uomini per scroccare, poi non gliela danno e la danno a quello che invece, come dire... Ma succede sempre così, eh? Come dire, la donna che frega i soldi al marito per dargli all'amante. E questo è quello che succede. Perché agli amici si chiede, agli amanti si offre. E questa è un'altra cosa fondamentale da tenere presente. Agli amici si chiede, agli amanti si offre. Ecco, questo è un'altra cosa che assolutamente non dovresti fare. Poi essere impacciato quando parli di mostrarti, come dire, timoroso è un'altra cosa allucinante. Questo non è da maschio beta, ma è da maschio omega. È dall'ultimo della catena alimentare. Un uomo deve sempre dimostrarsi sicuro, tranquillo, a suo agio con le donne. Se non ti dimostra tuo agio con le donne, beh, difficilmente riuscire a conquistare. Ecco, questi sono i comportamenti che mettono in atto gli uomini di poco valore, gli uomini che sbavano dietro alle donne. e questo è un errore che spesso molti uomini fanno. Ecco, questo dobbiamo tenerlo presente. Se ti comporterai in questo modo, invece, dovrai pagare nelle conseguenze, perché non riuscirai a sedurre nessuna. Questo è fondamentale. Cambia atteggiamento, carampano, perché così non sedurrai assolutamente nessuna. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai farmi delle domande, cioè potrai partecipare alle live con gli abbonamenti base e potrai partecipare al seminario online con l'abbonamento Seminario Online. Seminario online che faccio massimente. Ciao a tutti.